I paesi baltici si dividono sulla questione nucleare civile. Infatti, mentre la Lituania protesta contro l'attivazione della centrale nucleare bielorussia di Astravice, la Lettonia non le concede il suo appoggio politico contro Minsk. Il sito controverso si trova a soli 50 chilometri da Vilnius. La Lituania non ne vuole sapere più per ragioni di politica regionale che di sicurezza ambientale. Vogliamo evitare che l'elettricità prodotta dalla Bielorussia venga condotta attraverso il territorio lituano. Astravice dovrebbe cominciare a produrre elettricità a luglio. Vilnius vorrebbe mettere al bando l'energia con un protocollo trilaterale con altri due stati. Tutta la classe politica lituana è responsabile perché non ha preso sul serio il progetto prima, quando la Bielorussia era ancora in una fase iniziale, finché poi è diventata una questione di politica interna lituana, che cresce ad ogni elezione legislativa e lo vediamo adesso, come tutto questo abbia indebolito la posizione della Lituania. Ora dobbiamo convincere Lettonia ed Estonia a sostenerla. Il Parlamento di Vilnius ha cambiato la formulazione del documento da sottoporre Estonia e Lettonia, parlando di solidarietà degli altri baltici per la decisione lituana di non acquistare elettricità bielorussa. La Lituania teme infatti che senza un pieno accordo dei due partner, quell'energia possa arrivare comunque nel proprio territorio attraverso la Lettonia.